Ti ho parlato più volte delle menzogne e della smania che molti hanno di riuscire a riconoscerle. Ne ho parlato anche nel mio primo saggio, con un capitolo dedicato a fare chiarezza sul fatto che non esistono segnali non verbali che ci possano indicare con certezza quando una persona sta mentendo, nonostante da anni alleggi nell'aria che gira attorno alla comunicazione non verbale l'idea che esistano e possano essere insegnati. Come ti ho detto più volte, dopo più di 30 anni di studi e di aggiornamenti continui, possiamo cogliere solo indicatori o indizi, ma assolutamente nessuna prova certa. Detto questo, è un dato di fatto che la maggior parte delle persone gradirebbe conoscere una metodologia utile a smascherare i bugiardi, ma al momento nemmeno il famoso poligrafo, la macchina della verità, è riuscita a essere impeccabile. Si rimane quindi nell'ambito degli indizi ed è abbastanza normale che, dopo averne raccolti almeno più di tre, l'ago della bilancia possa pendere di più verso un'ipotesi di menzogna. Ma sottolineiamo la parola ipotesi e eliminiamo la parola certezza per cortesia. Sono Sergio Massi, mi occupo di aiutare le persone e i gruppi a comunicare meglio per evitare noia emotive e vivere una vita più felice. Dal momento che sono le nostre relazioni, in primis quelle con noi stessi, a stabilire la nostra temperatura emotiva. Dopo la sigla vediamo insieme quali sono gli indizi di menzogna nel verbale, ovvero quali sono le espressioni che un bugiardo inconsapevolmente utilizza, senza rendersi conto che un po' si sta tradendo. A tra poco. Perdonami se ripeto più volte che non si può avere certezze sulle menzogne altrui, ma più facilmente su quelle che raccontiamo noi stessi, i cosiddetti autoinganni. Navigo sicuramente controcorrente nel dire questo, ma sono davvero stanco di leggere titoli di libri e video sulle certezze di menzogna, che altro non fanno se non inquinare ancora di più le relazioni in un periodo in cui sono già abbastanza alla frutta, a mio parere. Vediamo comunque cinque dei principali e più frequenti indizi che una persona che sta mentendo può spargere nel suo parlato, ovvero nelle espressioni verbali che utilizza. Quando viene chiesto a qualcuno di raccontarci un resoconto dettagliato di un'esperienza che ha fatto senza di noi, può capitare che al termine del racconto dica questo è praticamente tutto. Beh, l'avverbio praticamente in casi come questo può essere interpretato come un di più, non necessario e quindi sospetto. Ci fa intendere che ci sia qualcosa d'altro da raccontare e che non voglia raccontarlo. Se il resoconto fosse realmente esaurito, la persona probabilmente direbbe questo è tutto, senza inserire l'avverbio. È interessante notare che l'avverbio praticamente in grammatica è considerato un avverbio di modalità, che viene definito anche modificante, perché spesso modifica il senso della frase ed è proprio questo il caso. Un'altra espressione che viene usata spesso da chi vuole nascondere qualcosa quando è sotto pressione e sta ricevendo domande scomode magari dal partner è quella che rimanda il dardo a chi l'ha lanciato e ha una forma come non ti fidi di me? Mi stai accusando? Come osi accusarmi? Con questo tipo di domanda si prende tempo, perché l'accusatore è costretto a giustificare le sue domande e l'accusato nel frattempo può organizzare un contrattacco o inventare una storia credibile. La migliore risposta in questo caso è la sincerità e potremmo ribattere sì, ti sto accusando? Forse. Ma il mio vero intento è conoscere la verità. Una terza strategia verbale usata da chi si sente alle corde magari accusato di aver fatto una specificazione fraudolenta è ancora una volta finalizzata a prendere tempo per poter costruire una credibilità e si esprime di nuovo sotto forma di domanda perché avrei dovuto farlo? Chi ha la coscienza pulita di solito si limita a fare affermazioni come non l'ho fatto? Un'altra modalità sospetta è l'utilizzo di formule rafforzative come puoi credermi, credimi, puoi fidarti di me. È provato che le persone sincere non usano mai parole del genere semplicemente perché non vivono il dubbio di non essere credute. Esordire in un racconto con frasi come sarò sincero con te, voglio essere sincero, in tutta onestà, ancora una volta la dice lunga su come sia possibile trovarsi di fronte a una persona che probabilmente non è del tutto sincera. A chi è profondamente onesto infatti non passa proprio in testa di usare formule del genere semplicemente perché dicendo la verità non ha alcun dubbio di non essere creduto e quindi nessun bisogno di specificare che è sincero o onesto. Concludendo, una prova del nove che potresti fare quando hai raccolto più indizi che ti portano a sospettare di qualcuno è chiedergli di raccontare la storia al contrario, dalla fine all'inizio. È un trucco che viene usato spesso durante gli interrogatori delle forze dell'ordine, ma posso dirti che il bugiardo professionista riesce sempre a superare il test. Anche per oggi è tutto, ci rivediamo la prossima settimana, sempre di sabato alle 11 con una nuova puntata di Briciolo di Comunicazione. Buona settimana da Sergio Massi. Grazie. Grazie.